Trovare lavoro come babysitter non è mai stato così facile e mediato. Questo grazie alla start-up Le Cicogne, prima applicazione in Italia, in grado di far incontrare ai genitori la babysitter dei sogni, grazie ad un cellulare. Il progetto è nato dall'esperienza di Monica, Valentina e Giulia, con tanta voglia di fare e con un futuro magari da imprenditrici. Le Cicogne è nato da un'idea di Monica, la mia socia, che faceva la babysitter nel suo quartiere e ha iniziato ad avere tantissimi genitori che le chiedevano di fare la babysitter o accompagnare i bambini a sport. Così ha dato vita a un gruppo di ragazze che facevano le babysitter nel quartiere. Il servizio ha subito avuto successo e il suo sito si possono fare richieste per ogni esigenza, dalla babysitter al baby taxi per accompagnare i bambini a fare sport, ma anche il tutoring per le lezioni private. Per iscriversi all'app delle Cicogne, l'aspirante babysitter, deve pagare 9,99 euro al mese e una volta selezionata, l'attesa per la prima chiamata è davvero breve, perché le chiamate dei genitori sono alte. E' molto importante che ci sia sempre una piccola quota di iscrizione perché ci fa capire che effettivamente sono ragazzi volenterosi di fare quel lavoro. In questi primi due anni di attività, l'app Le Cicogne ha messo in contatto più di 1500 babysitter con oltre 2000 famiglie. Un grande risultato nonostante ci siano ancora tanti che non si fidano del web. Oggi quindi bastano pochi clic per trovare la Cicogna giusta, che parli inglese, che viva nel quartiere o che semplicemente abbia la macchina.